Un saluto cari amici di StreamUp, per prima cosa vi chiedo scusa per la qualità dell'audio del video, ci sarà un po' di eco probabilmente, ma mi si è scaricata la batteria del microfono un secondo fa e non potevo rimandare oltre questa video recensione. Oggi di cosa parliamo? Parliamo di due accessori prodotti commercializzati da IC-DOC, parliamo, devo leggere il modello perché sono leggermente difficili le sigle, quindi parliamo del modello MB5225SPB per quanto riguarda il Flexi-DOC Dual Bay per hard disk SAS SATA da 3,5 pollici in bay, i dischi da 2,5 pollici e l'extrascage invece, modello preciso MB326SPB, un box per unità da 5,25, hard disk sempre da 2,5 SAS o SATA, possiamo spittare in questo caso un bel 6 hard disk all'interno di un'unità da 5,25, quindi al posto del classico lettore CD o sotto il classico lettore CD. Andiamo a vedere velocemente come sono fatti questi prodotti, andiamo ad aprire le scatole e vediamo come si stavano hard disk e proveremo a installare questi prodotti all'interno di un case classico normalissimo e all'interno di un case a rack server. Dunque iniziamo con l'IC-DOC Flexi-DOC per hard disk da 2,5 e drive bay da 3,5 pollici. Apriamo subito la confezione, vediamo com'è dentro il prodotto. Allora, sul retro della confezione in primis troviamo informazioni multilingua, tra cui anche l'italiano, relative appunto al prodotto, colore, tipi di hard disk supportati quindi da 2,5 pollici, SAS o SATA. Ovviamente vanno benissimo anche SSD, supporto fino al 6 gigabit per secondo quindi SATA 3. Mettiamo da parte la confezione, questo è, spero che si veda il prodotto una volta tolto dalla confezione, mettiamo un po' a fuoco se riusciamo, eccoci qui e andiamo ad aprirlo. La confezione è ben sigillata. Abbiamo un manuale ultra veloce direi, velocissimo, che ci spiega come installare i nostri dischi. mettiamolo da parte e questo qui è il nostro bay. Abbiamo sul retro, vediamo se riusciamo a mettere a fuoco. Abbiamo sul retro il collegamento per il connettore SATA, quindi uno per l'alimentazione e i due per i drive e l'alloggiamento per i dischi. Abbiamo il pulsante di estrazione rapida, dunque adesso facciamo una prova e andiamo ad inserire un hard disk da due e mezzo, da 2,5 pollici che avevamo qui. La procedura è veramente molto molto semplice. Si inserisce il nostro hard disk, vedete che scatta il tasto per l'espulsione. L'hard disk è inserito e per rimuoverlo basterà premere il tasto e voilà. Veramente veramente un'operazione molto 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 semplice. Comodo, tutto in metallo, veloce, pratico, meglio di così. Passiamo ora all'express cage. Abbiamo la possibilità di inserire all'interno di questo box 6 hard disk SATA da 2,5 pollici, bay da 5,5 pollici. Sul fronte della scatola troviamo delle icone relative alle funzioni che ci offre questo prodotto, quindi ventilazione, hot swap per la rimozione a caldo dei dischi, il supporto di 6 dischi e quant'altro. E cosa importante, tool less design, quindi per installare i dischi non abbiamo bisogno di cacciaviti o di utensileria particolare. Sul retro ci sono i dati tecnici del prodotto e in multilingua abbiamo una descrizione veloce di quello che è il prodotto. In italiano c'è scritto 2,5 pollici SATA e scatola dell'estrazione del rigido D, quindi una traduzione non perfetta, però noi non interessa, qui c'è una spiegazione veloce del fatto che il prodotto è tool less, quindi senza l'ausilio di appunto cacciaviti, mentre sull'altro lato abbiamo la spiegazione del ricircolo d'aria, quindi sul retro due ventole che spingono fuori l'aria, sulla parte frontale invece la griglia, che favorisce l'ingresso dell'aria. Andiamo ad aprire il prodotto, è la prima volta che lo apro anch'io, quindi andiamo a vedere insieme com'è, cosa contiene la confezione e cercheremo di installare un disco. Dunque, estraiamo il prodotto dalla confezione, plurible, plurible per proteggere l'articolo, togliamo dal plurible. Abbiamo delle viti, un set di viti per serrare dischi e prodotto al case del computer. Abbiamo un manuale di installazione molto rapido, anche in questo caso spiegato piuttosto bene, devo ammetterlo, perché ci sono tutte le immagini relative ai singoli passaggi, adesso io non so se da qui riesco a mettere a fuoco e farvi vedere bene come sono le immagini, però sono molto molto chiare. Molto molto chiare e poi abbiamo il prodotto in sé. Quindi, sei slot, bellissimo, sei slot, la parte frontale degli slot mi sembra in plastica, sì è plastica, mentre il box è in alluminio, la parte dei supporti è completamente plastica. Però comunque molto carino a vedersi. Abbiamo i rail accanto, questo qua favorisce tutto anche il ricircolo dell'aria, come anche le due ventole sul retro. Slot per l'inserimento dell'alimentazione, quindi due alimentazioni e i sei collegamenti SATA. Andiamo ad installare un disco, abbiamo sempre il nostro disco che abbiamo utilizzato prima. Allora, premiamo il pulsantino, come abbiamo già visto, mi pare un'operazione molto semplice. Ci estraiamo il supporto, inseriamo il disco in questa maniera, come potete vedere sul retro c'è la fessura per i contatti, inseriamo il prodotto, il disco, scusate, all'interno del prodotto, e spingiamo. E questo è tutto. Il prodotto, come vedete, è all'interno. Per rimuoverlo basterà premere questo tastino qui, e voilà. Molto carino. Semplice e funzionale. L'installazione del FlexiDoc è molto rapida. Ricordiamoci solamente, una volta inserito all'interno del case, di collegare qui e qui il cavo SATA, in questo spazio, in quest'altro il cavo SATA per i dati, e qua il cavo che arriva dall'alimentatore. Andiamo dunque a inserire il FlexiDoc all'interno dello scompartimento, fissiamolo con le viti, colleghiamo dunque i cavi, e dopodiché saremo in grado di inserire il nostro disco. Da 2,5. Per estrarlo, basterà premere questo tasto. Andiamo dunque ora ad installare l'ExpressCage da 6 vani, ricordandoci di collegare una volta installato i cavi per l'alimentazione. I due cavi per l'alimentazione SATA più i vari cavi SATA per i dati. Dunque andiamo a inserire all'interno del nostro vano da 5,25, esattamente come se fosse un lettore CD, l'ExpressCage di ICDoc. Serriamo le viti, una volta serrate le viti e collegati i cavi appunto di alimentazione ai cavo dati, possiamo inserire all'interno del prodotto un disco da 2,5 pollici. L'ICDoc ExpressCage risulta essere molto comodo nel caso aveste un server o avete l'intenzione di costruirne uno. Abbiamo visto come serrarlo in un case normale, stessa identica procedura in un case per servere, quindi un case a rack. Prendiamo il nostro ExpressCage e andiamo a inserirlo nel bay da 5,25 pollici. Una volta effettuata tale operazione, possiamo andare a inserire i nostri dischi all'interno delle unità. colleghiamo il cavo dati e il cavo dell'alimentazione. e il lavoro è ultimato. Bene, abbiamo dunque visto la semplicità di installazione dei prodotti ICDoc, l'ExpressCage e il FlexiDoc. abbiamo notato come l'installazione sia sprovvista di utilizzo di utensili, da qui il termine tool-less, e entrambi i prodotti ci garantiscono la semplicità di estrazione dei dischi installati all'interno appunto dei prodotti stessi. Per dettagli, fotografie e tutte le considerazioni riguardanti questi due articoli, vi rimandiamo alla recensione completa che trovate in descrizione qui in basso. vi esorto a commentare il video, fare domande e iscrivervi al nostro canale appunto di YouTube e iscrivervi sul nostro portale extremehardware.com. Ogni anno abbiamo anche contest attivi con dei premi in palio. Detto questo per ora è tutto, da Angelo e della redazione di Extreme Hardware un saluto. Ciao ciao!